benvenuti e bentornati su macraris sotto il cappello di microsoft office in questo video vediamo che cos'è il microsoft planner prima però un piccolo spot su chi siamo qui a macraris parliamo di tecnologia innovazione e se sei alla ricerca di trucchi spunti o ispirazione per essere più efficiente produttivo a casa in ufficio con gli strumenti di tecnologia più innovativi e più avanzati ecco se nel posto giusto sono chiara alberti docente microsoft appassionata di tecnologia e sempre alla ricerca di qualcosa da imparare ma che cos'è microsoft planner microsoft planner è un'app uno strumento della microsoft che serve a monitorare e tenere traccia di attività e progetti del tuo team in questo modo tutti sanno chi è responsabile di cosa se vuoi monitorare attività o progetti personali fuori dall'ambito lavorativo è possibile farlo creando dei piani personali planner è uno strumento molto intuitivo personalizzabile e veramente molto facile da usare è simile a trello o madida.com se avete già provato a utilizzarli per chi non avesse mai utilizzato planner qui una breve panoramica è possibile creare o assegnare task ai membri del team che assomigliano a mini cartoline o mini card all'interno di ogni schedina è possibile includere numerose informazioni ed è visibile anche la cronologia dell'attività specifica è possibile spostare un'attività tra un contenitore un altro monitorare progressi scadenze filtrare i dati e la cosa più bella è che è integrato con numerose app di microsoft come ad esempio microsoft teams vedremo come unire planner e teams alla fine del video quindi non perdetelo se usate teams perché da una spinta alle vostre attività vediamo ora come funziona planner è possibile accedere a planner da office.com oppure direttamente da microsoft teams su desktop vediamo prima come accedere a planner da microsoft office online si digita office.com e si accede con il proprio account microsoft 365 una volta loggati cliccare sull'icona delle app in alto a sinistra e se planner non è visibile tra le prime app a disposizione si clicca su apri tutte le app fin quando non la si trova selezioniamo planner e una volta selezionata l'app di planner si apre l'app di planner dove ci sono i piani creati da noi oppure quelli in cui altri ci hanno aggiunto tutti i nostri piani oppure quelli più recenti se è la prima volta che usi questa app ovviamente sarà vuota creiamo quindi un nuovo piano andiamo su un nuovo piano crea un nuovo piano ma ma che cos'è un piano pensiamo a un piano come a un progetto o a un qualcosa che dobbiamo fare che coinvolge e include tante microattività immagina di essere stato designato responsabile della stesura e della pubblicazione di un articolo di ricerca su uno dei temi tanto cari alla vostra azienda inseriamo il nome del piano e vediamo qui una cosa molto importante è possibile aggiungere a un gruppo di microsoft 365 già esistente e quindi scegliere tra diversi team a disposizione questo ci facilita perché non dobbiamo aggiungere uno alla volta tutti i partecipanti ma prendiamo già un gruppo preesistente è possibile poi assegnare la privacy al piano ovvero è possibile tenerlo privato dove solo i membri che vengono aggiunti possono visualizzare il contenuto del piano oppure è possibile renderlo pubblico ovvero tutti gli utenti dell'organizzazione o dell'azienda possono visualizzare il contenuto del piano è possibile poi inserire la descrizione del gruppo per facilitare i partecipanti alla comprensione immediata di che cosa si tratta crea piano ed ecco che il nostro piano è creato poco fa quando creavamo il nostro piano abbiamo detto che potevamo scegliere tra prendere un gruppo già esistente in microsoft 365 un team oppure aggiungere i membri uno alla volta noi decidiamo in questo caso di aggiungere i membri per aggiungere i membri uno alla volta si va su membri e si digita il nome della persona che si vuole aggiungere qua vengono mostrate le icone dei partecipanti una volta che i partecipanti sono stati aggiunti al piano essendo planner un tool uno strumento collaborativo di collaborazione i partecipanti stessi possono aggiungere modificare e collaborare all'interno del piano creato appunto una volta che il nostro piano è stato creato abbiamo la possibilità di aggiungere attività oppure nuovi contenitori cosa sono i contenitori microsoft planner come ci suggerisce la parola stessa un contenitore contiene attività simili permette di raggruppare attività simili ed è possibile creare più contenitori in un singolo piano poniamo il nostro esempio creiamo un contenitore idee aggiungiamo un altro contenitore con stesura bozza approvazione e pubblicazione ogni singolo contenitore conterrà più task e più attività raggruppabili i contenitori possono essere strutturati e gestiti come è più comodo per noi è possibile creare contenitori per le diverse fasi di un progetto piuttosto che per i diversi settori o dipartimenti di un'azienda oppure ad esempio per capitoli per i capitoli del libro che stai leggendo ad esempio è veramente molto molto flessibile e si addice a ogni necessità essenzialmente facciamo una parentesi planner non è adatto per grandi progetti per la gestione di grandi progetti né per quei progetti che necessitano una dipendenza tra attività in questi due casi è molto più consono e molto più utile utilizzare invece microsoft project se invece hai bisogno di uno strumento semplice e molto intuitivo allora planner fa per te soprattutto perché c'è anche la possibilità di attribuire più piani a uno stesso gruppo di persone perché a uno stesso team possono essere affidati più progetti ad esempio una volta creati i contenitori è possibile aggiungere le attività all'interno di ogni contenitore appunto aggiungi attività inserisco il nome dell'attività è possibile assegnare l'attività a uno dei membri del gruppo in questo caso abbiamo pochi membri nel gruppo ma se fosse un gruppo numeroso è possibile digitare il nome un indirizzo mail per trovarlo più velocemente ed è anche possibile assegnare l'attività a più persone a più membri del gruppo una volta creata l'attività è possibile anche successivamente inserire partecipanti e modificarli ed è possibile anche inserire una data di scadenza noi la lasciamo così la inseriamo successivamente cliccando su aggiungi attività possiamo notare che l'attività è stata aggiunta vediamo qui il nostro titolo i partecipanti se ci fosse la data di scadenza qua sotto ci sarebbe anche la data di scadenza e per vedere più informazioni clicchiamo sulla mini card sulla cartolina sulla schedina e viene aperta una finestra con tutti i dettagli dell'attività una volta che vediamo davanti a noi aperta la finestra con i dettagli delle attività possiamo iniziare ad aggiungere e a modificare ciò che riteniamo più opportuno possiamo modificare il titolo dell'attività possiamo aggiungere le etichette le etichette sono molto utili per ricollegare attività simili che sono in contenitori diversi possiamo anche modificare il nome dell'etichetta e mettere ad esempio il nome ricerca invio e assegnare l'etichetta ricerca a questa attività è possibile aggiungere più etichette noi ne aggiungiamo solo una è possibile selezionare il contenitore di riferimento da qua e scegliere in quale contenitore posizionare la task l'attività è possibile anche modificare lo stato dell'attività non iniziata in corso oppure completata per poter tenere traccia in tempo reale del completamento dell'attività è possibile aggiungere una priorità all'attività urgente, importante, media oppure bassa e possiamo anche inserire una data di inizio e la scadenza digitando delle note aiutiamo i collaboratori, i nostri colleghi a capire meglio e più velocemente di che cosa si tratta possiamo mostrarlo nella scheda in questo modo se noi chiudiamo la finestra e abbiamo la schermata principale di planner vediamo che nell'attività di ricerca idee per buzz articolo abbiamo la nota che ci ricollega direttamente all'obiettivo dell'attività rientriamo nel nostro dettaglio attività possiamo aggiungere elenchi di controllo ovvero check box cos'è un check box? cos'è un elenco di controllo? sono delle sottoattività, delle subattività che possiamo inserire per dettagliare meglio l'attività stessa invio una volta inseriti gli elenchi di controllo possiamo via via che li eseguiamo checkarli ovvero spuntarli ci viene fuori quante sottoattività abbiamo già realizzato e possiamo mostrarli nella scheda in questo caso non avremo più nella schermata della mini cartolina le note bensì avremo l'elenco di controllo che possiamo spuntare già dalla home e vediamo qua il risultato che abbiamo eseguito tre check box su tre tre sottoattività su tre possiamo anche aggiungere allegati dal computer dal file del team oppure collegamento a un url abbiamo la possibilità anche di inserire dei commenti e inviarli quindi al nostro team e infine abbiamo la cronologia delle attività una volta completati i dettagli dell'attività singola se andiamo su questi tre puntini altre opzioni possiamo scegliere di modificare l'etichetta assegnare l'attività oppure rimuovere partecipanti possiamo anche copiare l'attività copiare il collegamento dell'attività e possiamo spostare l'attività oppure eliminarla spostare l'attività è possibile anche farlo trascinando l'attività stessa posso scegliere di copiare l'attività per facilitare per velocizzare il mio lavoro nell'inserimento delle attività in planner nei miei contenitori scelgo di cambiare il titolo posso anche scegliere di copiare l'attività in un altro piano che ho già creato ovviamente posso scegliere dove inserire la nuova attività e planner mi dà anche la possibilità di includere alcune informazioni sulle attività che non possono essere condivise tra piani e gruppi quindi come l'assegnazione, lo stato, le date, la descrizione l'elenco di controllo e gli allegati oppure le etichette io posso scegliere di mantenere la stessa etichetta mantenere gli allegati l'elenco di controllo e la descrizione se però a me serve solo come comodità per velocizzare la creazione di un'attività tolgo la spunta alle informazioni presenti nella attività precedente e copio semplicemente l'attività una volta che ho la mia attività creata vado in dettagli assegno l'attività assegno un colore di etichetta scelgo di spostare la mia attività se necessario scelgo la priorità eventualmente inserisco una data di scadenza le note gli elenchi di controllo gli allegati o i commenti se necessario e possiamo vedere che ho aggiornato anche i dettagli di quest'altra attività notiamo che ci sono anche qui i tre puntini e come possiamo vedere ci sono più o meno le stesse opzioni che abbiamo trovato poco fa nei tre puntini nella schermata di planner copia attività, sposta attività, copia collegamento all'attività oppure elimina l'attività stessa chiudiamo la finestra e possiamo vedere come nel contenitore idee dove ci sono più attività una sotto l'altra ci viene presentata a fianco la barra di scroll per scendere per facilitare la visuale del contenitore e delle attività presenti nel contenitore una cosa interessante in planner è che ci mostra visivamente molto semplicemente e anche in modo molto carino le attività presenti nei diversi contenitori una volta che noi facciamo il check di un'attività realizzata sparisce dalla lista preimpostata dalla lista nella home page una volta dentro al dettaglio delle attività possiamo modificare anche successivamente la nostra attività ovvero aggiornarla, aggiornare lo stato, aggiornare la priorità piuttosto che inserire una data di inizio e una data di scadenza in questo caso se chiudiamo il nostro dettaglio vediamo che l'attività è aggiornata anche nella home di planner facciamo in corso facciamo che inseriamo qui e mettiamo una scadenza digitando il commento se inseriamo un link nelle note notiamo che il link è cliccabile un'altra cosa molto interessante è che entrando nel dettaglio posso inserire un commento inviarlo viene fuori nella cronologia e viene inviata anche una mail nell'account di microsoft 365 la cosa interessante è che è possibile visualizzare se ci sono commenti inviati grazie a questo simbolino che ci dice che in questa attività ci sono commenti un'altra cosa interessante che posso fare inoltre è poter modificare direttamente i file allegati e automaticamente questi vengono aggiornati vediamo come cambio il nome del mio contenitore aggiungo un'attività assegno l'attività e inserisco l'attività stessa cliccando su aggiungi attività clicco nel dettaglio aggiungi allegato come abbiamo già detto possiamo scegliere se aggiungere un allegato da computer dal file del team oppure aggiungere un collegamento a un link io aggiungo dal file del team ce l'ho già in sharepoint salva e clicco mostra nella scheda una volta che l'allegato è inserito innanzitutto viene visualizzata l'anteprima e se clicco e se clicco sull'allegato viene aperto in word online e io posso direttamente modificarlo e viene aggiornato direttamente anche in planner se io non ho allegati o se volessi aggiungere altri documenti al mio gruppo clicco nei tre puntini clicco sui tre puntini clicco su file viene aperto lo spazio del mio piano su sharepoint e posso caricare documenti cartelle o modelli modificarli a seconda di come mi trovo più comoda aggiungere un documento una cartella oppure una presentazione powerpoint un blocco di one note forums per excel un link posso sincronizzare oppure posso esportare collegare a powerapps automatizzare inviare avviso e aggiungere collegamento onedrive veramente posso fare tantissime cose una volta aperto sharepoint posso anche vedere i suggerimenti che mi da per iniziare a collaborare sul sito ed è veramente un aiuto favoloso perché ci guida passo a passo per inserire un documento nel mio gruppo in sharepoint posso anche fare in maniera inversa ovvero aggiungo un'attività qua entro nei dettagli aggiungo allegato da computer una volta aggiunto il file nell'attività stessa intanto mi viene mostrato nella schedina dell'attività c'è il collegamento al documento in sharepoint e posso visualizzare tutti i documenti da qualunque altra posizione una volta che ho il mio piano molto accattivante visivamente ogni collaboratore ogni membro del team ha la possibilità di spostare le attività tra un contenitore un altro e nel contenitore stesso è possibile ripristinare e ritornare allo stato iniziale come si vuole e in qualsiasi momento soprattutto immaginiamo di voler spostare un'attività i contenitori successivi abbiamo la possibilità di trascinarla di trascinarla nell'altro contenitore oppure di riportarla al contenitore approvazione una volta entrati nei dettagli possiamo cambiare i partecipanti ognuno può cambiare i partecipanti è possibile aggiungere nuovi elenchi di controllo se già esistenti oppure aggiungerli da zero è possibile aggiungere allegati in un'attività già creata precedentemente una volta che l'attività di approvazione è stata creata possibile passare al contenitore pubblicazione quando l'attività è stata completata del tutto è possibile inserire l'aggiornamento dalla scheda dettaglio oppure direttamente fare il check nella cartolina dell'attività ad esempio se abbiamo finito la ricerca degli idee la scheda dell'attività non viene più mostrata nella home di planner bensì viene mostrata in completate se io clicco su mostra completate vediamo l'attività che è stata completata con i diversi checkbox completati nascondi completate e viene nascosta una volta che l'attività viene completata da chi l'ha realizzata basta marcarla e la lista delle azioni completate viene aggiornata una volta che abbiamo le nostre attività in planner è possibile raggrupparle per contenitore è possibile raggrupparle a seconda della persona a cui sono state assegnate vediamo qua i partecipanti e le attività a loro assegnate è possibile raggrupparle per lo stato di completamento possiamo anche raggrupparle per data di scadenza possiamo raggrupparle per etichette e vediamo che abbiamo le differenti etichette con le attività a seguito e un'altra cosa interessante è che possiamo raggrupparle per priorità la possibilità di visualizzare le diverse attività in diverse modalità è veramente molto molto interessante perché permette la personalizzazione di planner ad alti livelli abbiamo poi la possibilità di filtrare le attività secondo priorità secondo assegnazione secondo scadenza per disattivare il filtro posso cliccare un'altra volta sulla scelta selezionata precedentemente oppure posso cliccare su cancella e mi cancella il filtro è possibile anche aggiungere partecipanti al team è possibile rimuovere i partecipanti e una volta digitato il nome di un partecipante clicco invio e mi viene aggiunto possiamo vedere come planner è uno strumento veramente molto flessibile e viene incontro a tutte le nostre esigenze in planner abbiamo poi la possibilità di vedere graficamente lo stato di avanzamento del nostro progetto andiamo su grafici e possiamo vedere lo stato del progetto con quante attività non iniziate in corso in ritardo oppure completate possiamo vedere lo stato di avanzamento secondo i contenitori quindi quante attività in ogni contenitore abbiamo la possibilità di vedere le attività secondo le priorità oppure di visualizzare quante attività per ogni membro e se sono iniziate in corso oppure completate possiamo poi vedere in microsoft planner anche la pianificazione ovvero il calendario con le diverse attività le diverse scadenze di ciascuna attività cliccando in ogni singola data vengono mostrate le attività di quel giorno e le attività in scadenza è possibile poi visualizzare il calendario per settimana oppure per mese se vogliamo possiamo anche modificare un'attività partendo direttamente dal calendario clicchiamo sull'attività e viene aperta la finestra a dettaglio dell'attività cliccata posso modificare la data di scadenza e viene aggiornata direttamente sul calendario la modifica effettuata è possibile anche aggiungere un'attività direttamente dalla visualizzazione calendario aggiungi attività posso inserire il nome pubblicarlo data di scadenza assegnarlo e clicco su aggiungi attività ritorniamo alla visualizzazione della nostra bacheca di scadenza posso scegliere anche se ho bisogno di cancellare un'attività posso decidere di cancellarla cliccando su elimina e l'attività viene rimossa qui in alto sui tre puntini ho numerose altre opzioni tra cui scegliere posso visualizzare i membri entrando così nel gruppo di posta del piano è possibile vedere i file a disposizione del gruppo del team è possibile vedere il blocco punti i siti su sharepoint è possibile aggiungere questo piano ai preferiti copiare un piano esportare il piano in excel copiare il collegamento al piano per avere il link da condividere è possibile entrare nelle impostazioni del piano e scegliere di personalizzarlo di personalizzare la schermata di personalizzare il nome o la descrizione del gruppo e di personalizzare la privacy oppure posso scegliere di cambiare le impostazioni delle notifiche scegliendo di inviare una mail al gruppo quando un'attività viene assegnata completata di impostare planner per l'invio di notifiche quando un utente assegna un'attività a me oppure quando un'attività assegnata a me è in ritardo in scadenza oggi o nei prossimi giorni una volta effettuate le modifiche clicco su salva e le modifiche vengono salvate posso scegliere di esportare il piano in excel clicco su esporta piano in excel viene salvato sul desktop e una volta aperto ho tutte le informazioni delle attività delle scadenze delle date di inizio delle creazioni delle priorità dello stato dei nomi dei contenitori tutto quello che mi serve per avere a portata di mano e sott'occhio le informazioni relative a quel piano in planner in quel determinato momento ora come faccio a ricordarmi di tutte le attività che devo fare che non ho ancora iniziato di tutti i progetti che devo seguire in alto a destra ho la possibilità di andare su attività personali di vedere le attività non ancora iniziate in corso oppure completate e posso vedere in alto in ogni schedina che c'è il nome del piano di riferimento vediamo adesso l'ultima cosa meravigliosa che si può fare con microsoft planner e teams insieme e che abbiamo lasciato apposta alla fine del video ci lasciamo un attimo planner online alle spalle andiamo nel nostro account di teams selezioniamo il team in cui vogliamo inserire il nostro piano andiamo sul più per aggiungere una scheda e selezioniamo planner è visualizzato come task di planner e to do perché ricordiamo che to do è un'app simile a planner usata per attività personali mentre planner viene utilizzato anche per seguire progetti aziendali mi viene caricata e posso scegliere se creare un nuovo piano inserire quindi il nome della scheda oppure usare un piano già esistente una volta cliccato su usa un piano esistente di questo team planner viene aggiunto al team già esistente e si può lavorare su planner direttamente da team e tutte le attività modificate inserite aggiornate in teams vengono aggiornate direttamente anche su planner online io in questo momento non ho la possibilità di usare un piano esistente di questo team perché se vi ricordate all'inizio del video avevo creato un piano senza ricollegarmi a un team già esistente avevo creato un piano ex novo dunque e non ho quindi la possibilità di ricollegarlo al mio team ma una volta che avete creato un piano collegandolo a un team già esistente è possibile importare planner in teams e lavorare in team come se lavoraste su planner online come puoi vedere microsoft planner è ricco di possibilità e funzionalità da utilizzare e da poter sfruttare per progetti singoli e personali come anche per progetti aziendali se non l'hai ancora fatto visita il sito di macraris www.macraris.it visita il nostro canale macraris per scoprire tanti corsi e tanto materiale con cui imparare e ricordati di iscriverti cliccando su iscriviti al canale per ricevere aggiornamenti e notifiche sui contenuti pubblicati e se hai bisogno di una consulenza non esitare a scrivere a info-macraris.it oppure consulenza-macraris.it ti aspettiamo a presto a presto